Buongiorno a tutti, buon pomeriggio a tutti. Grazie per la vostra partecipazione. Una partecipazione così numerosa e qualificata sottolinea come oggi stiamo scrivendo una pagina importante per il capoluogo di regione. Stiamo scrivendo una pagina importante per tutta la nostra regione, per il centro Italia. Perché quest'opera che oggi presentiamo insieme al presidente Acquaroli che l'ha voluta con forza, l'amministratore delegato di ANAS, nostro gradito ospite, il sindaco Silvetti, con il quale per la prima volta parliamo formalmente in una conferenza stampa di infrastrutture della grande Ancona e il commissario per la realizzazione dell'opera, l'ingegner Paolo Testaguzzi, questa opera e questo lavoro rappresenta un tassello fondamentale non solo per Ancona, come dicevamo in precedenza, ma per riconnettere Ancona, il nostro capoluogo di regione, al resto della regione. Questo lo dovrà fare politicamente, ovviamente, poi anche il sindaco Silvetti che in questo si è dimostrato già molto capace, ma per riconnettere le marche al centro Italia. Perché Ancona con questa opera, con il raddoppio della strada statale 16, per la quale mi complimento con ANAS e con l'amministratore delegato, perché i lavori sono sotto gli occhi di tutti, stanno procedendo in maniera molto rapida, molto concreta e ci danno grande fiducia nel futuro. E con ciò che presenteremo insieme ad ANAS il 12 gennaio, il 12 febbraio, la consegna dei lavori per l'apertura della Galleria della Guinza all'interno dell'itinerario tra Fano e Grosseto, rappresentano l'idea che trovate nel piano infrastrutture Marche 2032 adottato dal Presidente Acquarogli e dalla sua giunta poche settimane fa per la costruzione di un corridoio europeo di trasporto sicuro tra la Turchia, i Balcani, i porti della Grecia, il porto di Ancona, i porti del Tirreno, grazie alla Fano Grosseto e alla Roma-Ancona-Terroviaria verso Civitavecchia e con la Fano Grosseto verso Livorno, Piombino e la Spezia, un corridoio europeo di trasporti sicuro, perché come voi vedete l'economia italiana ed europea sta soffrendo le crisi regionali che purtroppo riempono le pagine dei nostri giornali e i nostri telegiornali quotidianamente. La crisi del Mar Rosso ci preoccupa, preoccupa i porti italiani, la crisi e la guerra tra Russia e Ucraina preoccupa particolarmente, dobbiamo realizzare dei corridoi sicuri. E quale corridoio sicuro se non quello che arriva in maniera diagonale dai Balcani al porto di Ancona, che ha delle caratteristiche fisiche, naturali, proprie, come infrastruttura che permette un pescaggio fino a 14 metri e un collegamento di cui parlava Napoleone nel 1806 tra il porto di Livorno e il porto di Ancona. Dobbiamo dire che dopo 200 anni e 50 anni, io vivo in quel territorio, 50 anni di promesse vane, oggi il Presidente Acquarò gli ha portato nella nostra regione un grandissimo risultato. Io lo ringrazio perché mi ha lasciato lavorare con grande flessibilità, ci ha lasciato lavorare insieme a Danas dando grande fiducia alle nostre strutture e oggi riportiamo un risultato per le Marche del Centro Italia molto importante. In tutto questo io vorrei ringraziare, il Presidente Acquaròli me lo permetterà, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che nel suo primo intervento come Presidente del Consiglio al Cipes ha finanziato queste opere. Il Commissario Testaguzza sa benissimo che mancavano circa 50 milioni di euro per la realizzazione dell'ultimo miglio, insieme a Anas, al Ministero e al Presidente del Consiglio, abbiamo trovato la copertura totale per la realizzazione dell'intervento. Io mi taccio qui sapendo che stiamo costruendo una pagina importante sulle infrastrutture del centro Italia e nell'interesse anche dell'Unione Europea. e passo direttamente la parola all'amministratore delegato di Anas, l'ingegnerisi. Grazie Assessore, Presidente, buongiorno, Signor Sindaco, Commissario. Un saluto a tutte le autorità presenti, a tutti quanti. Devo dire un grazie sincero all'Assessore, ma a tutta la squadra della Regione con la quale abbiamo lavorato, collaborato. E qui oggi siamo a celebrare la consegna dei lavori formali che è avvenuta qualche ora fa con l'impresa Donati che è qui presente, la consegna formale di quello che è un caso di successo. L'ho detto prima, studiamo tutti quanti sui libri le infrastrutture strategiche, le immaginiamo, le progettiamo, e qui finalmente abbiamo la realizzazione di quest'ultima connessione che è fondamentale per rendere accessibile un porto strategico per il territorio, ma non solo, quindi anche per il Paese. Quindi sono molto orgoglioso e felice di essere qui. L'abbiamo promesso, ricordo, credo un anno fa, al Presidente e all'Assessore che avremmo lavorato per questo obiettivo e per una volta lo portiamo qui come risultato raggiunto da una squadra che ha lavorato molto bene insieme. Molto bene non soltanto su questo, aggiungo io, perché c'è stata una grande sinergia, una grande determinazione, una grande spinta da parte dell'Assessore che trova sempre lo spazio per una telefonata e per un feedback importante, e questo è fondamentale perché nel bene e nel male ci ha consentito di alzare l'asticella, l'ho detto prima, e celebriamo oggi un anno importante, dove abbiamo tanti cantieri che sono finalmente stati sbloccati, altri in corso, si è parlato della variante della 16, si è parlato della variante della Salaria, dell'E78, quindi diciamo non stiamo parlando di progetti che devono venire ma di realtà e questo secondo me è importante. Dopodiché io un cenno lo farei sul cantiere di quella che io considero la grande opera per eccellenza, cioè la cura dell'infrastruttura esistente, che è un segnale di attenzione per il territorio, è ahimè anche fonte di sacrifici per il territorio perché ci possono essere code, ci possono essere momenti nel quale in qualche modo diamo fastidio, però vi voglio dire il numero più importante, quest'anno abbiamo raggiunto i 130 milioni di manutenzione programmata sui 1500 chilometri della viabilità delle Marche ed è un record assoluto, non era mai stato fatto prima e questo si fa soltanto se c'è questa sinergia che è stata richiamata. Quindi grazie a tutti e buon lavoro. Grazie mille all'ingegner Isi per il suo pragmatismo e per la sua consueta collaborazione con la regione Marche. Ora, prima di lasciare la parola al sindaco Silvetti e poi al presidente Acquaroli, chiedo all'ingegner Testaguzza di intervenire. Il commissario, avevamo chiesto all'inizio del 2021 che il governo nominasse un commissario per sbloccare l'opera. Questo passaggio è stato fondamentale, appoggiato da Anas. Anas ha individuato uno dei suoi uomini, io dico migliori, perché sta qui nelle Marche, nato anche nelle Marche, è stato veramente molto veloce nel predisporre il progetto che aveva una serie di problematiche da affrontare e oggi siamo qui alla consegna dei lavori. Grazie, ingegner Testaguzza. Io ringrazio anzitutto, oltre all'assessore, per le belle parole, per direi la regione Marche, nella persona del governatore Acquaroli che ci ospita e che non è stato in nette diciamo alle nostre attività, anzi è quello che materialmente ha anche approvato il progetto insieme al commissario, come prevede il DPCM, recentemente, in data 30 maggio 2023, il che ha consentito di appaltare l'opera. Il bando è uscito il 28 giugno 2023, ha ottenuto tutti i pareri di valutazione del patto ambientale da parte del Mase, positivi su tutti e 3,3 chilometri di variante al tracciato di collegamento tra la statale 16, oggetto di ampliamento in corso di esecuzione, di raddoppio e il porto di Ancona e l'appalto è stato aggiudicato recentemente con aggiudicazione definitiva efficace datata 12 gennaio 2024. Direi che le attività di consegna lavori il commissario le ha volute avviare in urgenza come è obbligatorio in questo caso, trattandosi di un'opera attesa oramai da oltre 30 anni, quindi nessun indugio a avviare le attività oggetto di appalto che sono diverse perché si tratta di un progetto di appalto integrato. Perché mi fermerei un attimino per dire che l'amministratore delegato mi sembra oramai un anno fa mi chiese proprio personalmente di accelerare queste attività di appalto utilizzando l'appalto integrato che era possibile fino al 30 giugno dello scorso anno. Ci siamo riusciti grazie a tutti non solo alle attività di ANAS e quindi siamo stati in grado di tagliare oltre 4 mesi dal cronoprogramma. Quindi adesso ha vinto l'impresa il raggruppamento temporale di imprese perdonatemi che Donati SPA che è qui presente l'ingegner Donati e anche Basic SPA che gli orandesi qui presenti che ringrazio anticipatamente stamattina abbiamo discusso e esaminato il progetto. Non voglio dilungarmi oltre passerei insomma ad illustrarlo perché anche rendere pubblico diciamo questo intervento che è più o meno noto che adesso vedete le slide in porto e tempi sono previsti 4 mesi per il progetto esecutivo che è una delle attività oggetto d'appalto da oggi consegna oggi ci sono 6 mesi per il monitoraggio ante e post operam le bonifiche belliche i lavori cominceranno a settembre a seguito delle verifiche di temperanza da parte del mare quindi l'importo dei lavori lo vedete come diceva l'assessore si tratta di questi 150 milioni di euro inizialmente erano 99 poi aumentati per effetto di approfondimenti tecnici che hanno tenuto conto anche della zona in frana qui stiamo intervenendo su un tratto una frana storica la famosa frana Barducci quindi non abbiamo voluto lasciare nessuna nessuno spazio all'incertezza tecnica l'intervento lo vedete adesso con questa slide in coreografia che fa vedere l'allaccio sull'ospedale di Torrette dove c'è il doppio della statale 16 e vedete attacchiamo tutto in nuova opera quindi senza provocare disagi ai residenti ce ne siamo in variante un viadotto in corte di 285 metri una prima galleria naturale di 650 metri un tratto rilevato con una seconda galleria e andiamo a raggiungere l'attuale Flaminia dove poi proseguiremo per collegarci al porto realizziamo anche su richiesta del sindaco di Ancona qui presente abbiamo voluto diciamo anche a secondare subito in questa fase esecutiva queste esigenze di miglioramento dei livelli di servizio anche dell'abitato di Torrette questa rotatoria che vedete sulla destra nuova rotatoria di Torrette rapidamente questi sono gli obiettivi del progetto alleggerire la rete urbana dell'area ospedale di Torrette e di Torrette tutta dal traffico pesante migliorando i livelli di servizio favorire attraverso l'adeguimento le opportunità di sviluppo economico certamente da e per il porto migliorare gli standard di sicurezza stradali si tratta di una struttura moderna una C1 10 metri 50 due corsie specializzate e senza interferenza dalla rotatoria di Torrette fino alla Flamiglia ecco qua meglio rappresentato il tracciato alcune immagini di dettaglio che di scuola ecco direi le date che ricordiamo dell'aggiudicazione efficace di poco fa l'importo netto dei lavori e un rendering di come sarà l'infrastruttura che abbiamo voluto l'infrastruttura che abbiamo voluto mimetizzare utilizzando il meno solo possibile e cercando di fare un'opera anche sostenibile direi bella io però sono di parte e questo è poi dopo lo sbocco sull'attuale Flamiglia ho finito grazie ingegner Testacuzza grazie anche per l'attenzione che ha avuto nei confronti del nostro paesaggio perché una parola chiave della giunta del presidente Acquaroli è appunto sostenibilità sostenibilità garantendo lo sviluppo tramite le infrastrutture della nostra regione con grande attenzione quindi non solo alla sostenibilità economica e sociale perché le infrastrutture ce la garantiscono ma anche attenzione alla sostenibilità ambientale con questo passo la parola al sindaco Silvetti che ringraziamo per l'aiuto che ci ha dato già sin dall'inizio del suo mandato grazie buonasera a tutti io oltre a un evidente ringraziamento al presidente Acquaroli all'assessore Baldelli e ai vertici Anas qui presenti vorrei solo fare una piccola osservazione se qualcuno mi avesse detto nel 1997 quando ero consigliere comunale che mi sarei trovato un giorno da sindaco vicino al presidente della regione all'assessore annunciare l'inizio di quest'opera così strategica fondamentale avrei detto che insomma mi trovo di fronte a un pericoloso visionario un pericoloso visionario oggi questo invece è realtà mi sento onorato anche fortunato non lo so però onorato sicuramente responsabilizzato di capitare in questo momento così fondamentale importante non solo per Ancona evidentemente ma per tutta la regione qui si rimostra una volta di più quanto Ancona e il buon funzionamento di Ancona in senso ampio quale depositario di grandi infrastrutture del porto in primis ovviamente del fatto che facendola funzionare bene essendo a servizio del territorio riesca veramente a esercitare il ruolo di capoluogo a servizio della regione Marchi questa non è la dimostrazione plastica è di questo che in realtà ci interessava e ci interessa sui più piani perché è chiaro che per noi la priorità è lo sviluppo del porto e delle attività che vi insistono tutte ovviamente la capacità di essere un porto agile soprattutto nel far uscire i traffici pesanti che insistono sul nostro territorio e in particolar modo su un quartiere che è stato vessato per tanti anni per il quale abbiamo fatto battaglie per il quale insomma abbiamo sostenuto le ragioni di tanti cittadini e ovviamente non ultima la possibilità di nel suo complesso consentire la reazione di un'opera strategica dal punto di vista economico ma soprattutto utile fondamentale e qui l'attenzione che un sindaco deve dare a ogni cittadino utilissima e fondamentale per garantire la sostenibilità ambientale ma soprattutto garantire la qualità della vita del cittadino questo per noi è una priorità però ecco questa infrastruttura è troppo importante perché si possa ridurre a qualche considerazione di carattere squisitamente politico insomma questa sindacatura che conoscerà sostanzialmente formalmente la realizzazione di un'opera che metterà effettivamente in collegamento la regione con il resto d'Italia quindi riuscirà in qualche modo effettivamente a essere la città di Ancona a servizio di una grande iniziativa che trova oggi il suo compimento con l'azione di governo grazie appunto al comitato disposto che riusciamo sempre a mettere e devo dire che in questi primi otto mesi di sindacatura di segnali ne sono arrivati tanti e questi mi aggirano non poco nel lavoro di sindaco quindi ringrazio ancora la regione Marche l'assessore Baldelli con il quale esiste un rapporto profico costante mese dopo mese e oggi sicuramente per noi per Ancona e per tutta la città di Ancona è sicuramente un grande giorno che noi consegniamo alla storia della nostra città ma soprattutto della nostra regione grazie grazie sindaco ora presidente a te le conclusioni ti rubo un ringraziamento che tu sicuramente avresti fatto io ringrazio tutte le categorie che sono qui presenti perché aver compattato la filiera istituzionale ma aver compattato anche la filiera sociale ed economica del nostro territorio è stata una carta vincente di questa giunta sull'intuito del presidente Acquaroli quindi vi ringrazio e ringrazio insieme a voi gli ordini professionali e anche molti operatori economici vedo anche il presidente della Camera di Commercio Gino Sabatini che hanno dato un impulso fondamentale perché finalmente con la giunta con la giunta Acquaroli si potessero sbloccare le marche grazie di cuore presidente grazie assessore un saluto a tutte le autorità civili e militari ai rappresentanti del mondo economico al presidente della Camera di Commercio a tutti i partecipanti a questa conferenza stampa molto importante tutti gli interventi che mi hanno preceduto hanno sottolineato la strategicità dell'opera che oggi viene presentata e tutti gli interventi che mi hanno preceduto in maniera particolare l'ingegnere Isi l'ingegnere Tastaguzza più nel dettaglio ma soprattutto il sindaco e l'assessore hanno definito come questa opera fa parte di un insieme di opere che si stanno realizzando nel nostro territorio in maniera particolare parliamo del comprensorio legato al capoluogo molto importanti perché aiutano il capoluogo ad emergere con tutte le proprie potenzialità e a ridare però importanza alla nostra regione perché una regione che non ha un capoluogo forte è una regione che non ha un punto di riferimento il raddoppio della Stadale 16 che abbiamo come cantieri inaugurato durante la pandemia oggi parliamo dell'ultimo miglio fra un po' ci saranno delle novità importanti anche nel porto e così via dicendo parliamo abbiamo parlato della continuità territoriale abbiamo parlato della svolta anche positiva di Interporto tutta una serie di novità che possono rappresentare un valore aggiunto per questo nostro territorio un volano che può attrarre non solo risorse ma anche idee imprenditoriali certamente non possiamo fermarci qui perché il ritardo cumulato negli anni dalle nostre infrastrutture è un ritardo molto importante se penso al ritardo ferroviario ad esempio al ritardo autostradale sicuramente c'è molto da fare ancora però mi permetto di dire e voglio in questo senso ringraziare ANAS ringraziare tutti gli altri partner mi permetto di dire che l'attenzione che ci sta conferendo si sta conferendo la nostra regione è un'attenzione che noi cogliamo con molta gratitudine parliamo di investimenti importanti anche con la galleria della quinza la salaria la bene montana opere che saranno fondamentali a riconnettere e ricollegare il tessuto economico e sociale di un territorio che pure ha sofferto tantissimo in questi anni proprio a causa di un isolamento congenito rispetto alle altre regioni ma soprattutto anche all'interno del tessuto socio-economico regionale e in questo senso l'opera che viene presentata oggi è fondamentale mentre si guardava l'ultima slide illustrata guardavo il comprensorio di ospedali riuniti dove si sta realizzando con Salesi un'altra opera molto importante per gli anconetani e i marchigiani ma anche oltre i confini regionali e pensavo all'impatto positivo di quest'opera nel deflusso del porto ma soprattutto nell'accesso a questo polo sanitario così importante fondamentale ecco allora credo che questo debba essere sicuramente un punto di orgoglio ma un punto di ripartenza per ridisegnare la nostra regione e ridisegnare un po' la valenza del territorio marchigiano quindi oggi credo che sia un po' la giornata della soddisfazione però da questa sera dobbiamo continuare a lavorare per cercare di dare le ulteriori risposte mancanti che sono fondamentali a far sì che questa opera unita alla Statale 16 e unita al potenziamento del porto col progetto che noi abbiamo chiamato penisola possano diventare un valore aggiunto per tutta la nostra regione è un'opera questa lo diceva bene Francesco Baldelli poc'anzi importante anche dal punto di vista della sostenibilità perché il porto di Ancona per poter essere attrattivo e competitivo deve essere sostenibile dal punto di vista ambientale e questa infrastruttura sicuramente rappresenta un'opera che cambia il volto del porto e della città perché permetterà un accesso e un deflusso in maniera molto più veloce per chi conosce quelle arterie in entrata e in uscita sapete quanto in termini di problemi in Gorgo si creano ora con questa opera Ancona potrà vivere anche una vocazione diversa che sia complementare e fondamentale a quella che è quella del porto che è sicuramente la realtà più importante io spesso la definisco la realtà economica più importante dell'intero tessuto regionale però ecco questa opera questo ultimo miglio rappresenta una svolta credo anche per la città non dobbiamo fermarci però dobbiamo anche essere consapevoli dell'importanza dei risultati raggiunti finora e riconoscendo l'importanza non posso non riconoscere e essere grato a chi ha lavorato perché al di là della volontà politica c'è poi chi nei vari ruoli riesce a portare a casa questi risultati quindi l'ingegnerisi l'ingegner testa guzza tutti coloro l'assessore Baldelli e tutti coloro che negli uffici a tutti i livelli si sono impegnati anche ad arrivare a questo risultato in tempi sostanzialmente brevi perché un altro elemento importante nella burocrazia italiana sono i tempi e questi vi posso garantire che sono stati tempi brevi anche per la capacità di saper mettere insieme tutte le risposte necessarie e far sì che un'opera come questa possa vedere la luce grazie e speriamo di vederci presto per altre importanti novità grazie presidente grazie a tutti voi non so se la stampa ha qualche domanda ma credo che abbiamo esaurito le curiosità in precedenza quindi io saluto tutti e da ultimo l'ha già fatto il presidente saluto le nostre forze armate e di polizia che ci hanno fatto l'onore di essere presenti e di accompagnarci quotidianamente nei nostri percorsi in sicurezza grazie a tutti grazie